Sono Andrea Bionosconi, General Manager di iChemicals, anche quest'anno partecipiamo a D&A Coding Days, una manifestazione per noi particolarmente interessante. Abbiamo presentato quest'anno due relazioni, una in cui abbiamo parlato dell'applicazione della spettroscopia Ramanna come tecnica di indagini innovativa del nostro settore, particolarmente utile come accoppiamento, diciamo così, ad altri tipi di tecniche di indagini come può essere l'ACET, l'ICP, addirittura il SEM. E nella seconda relazione abbiamo presentato, dopo un anno dall'interruzione di una nuova famiglia di prodotti nanotecnologici, quali sono i benefici e anche l'evoluzione stessa dal punto di vista tecnologico con dei risultati di assoluto rilievo già applicabili nell'industria, diciamo, che ha necessità di processi di resistenza della corrosione ad alte performance.